Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video, finalmente abbiamo tutte le carte del Secret Utility Box e ovviamente andremo a vedere anche tutti i comparti perché dentro ogni scatolotto ce n'è un altro basato su 6 temi che poi adesso andremo a vedere Prima di iniziare come sempre vi invito a scrivere il nostro canale per esempio, grazie mille, buona vigilia e dato che già ci sono poi rinnoverò i miei auguri a Natale, buon Natale, ovviamente il 25 salvo aggiornamenti che al limite riuscirò a portare perché mi estraneo un attimo non ci sarà programmazione, se ci sarà qualche aggiornamento lo porterò, poi il 26 si riprende tranquillamente dal 29 al 3 partirò con la mia ragazza, starò fuori, quindi se riesco a portarvi gli aggiornamenti li porterò, al limite recupereremo tutto cercherò di fare quello che riuscirò a fare, bisogna riprendersi da un dicembre abbastanza pesante e niente, questo era, tanto poi rinnoverò questi avvisi, tra virgolette, sui post della community Secret Utility Box 12 Secret Rare Speciale che andremo a vedere, in ogni box ce ne saranno 2 garantite 4 Special Pack contenenti 10 carte per un set totale di 80 che si possono trovare nei pacchetti 12 Super Secret Rare 68 normale poi uno di 6 pacchi da 100 sleeves uno di 6 fill center uno di 6 card case uno di 6 dati e uno di 6 storage boxes e andiamo a vederli insomma allora abbiamo quello per Chaos Ruler quindi abbiamo foderine con Chaos Ruler il boxettino più grande che contiene tutto quanto il porta mazzo e il dado e il fill center poi anche quello di Azeus bellissimo anche questo molto molto bello come possiamo vedere abbiamo la deace del mondo sotterraneo la Underworld anche questa con l'occhio qui che sembra molto molto figo il fill center le sleeves il porta mazzo e il dado e lui è figo Heavenly Prison è figo molto figo bello 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 poi abbiamo Psychic and Punisher il verde io lo adoro come colore quindi intanto anche queste sleeves dell'Empire and Punisher sono molto più belle rispetto a queste qua mi garbano molto molto di più sarà per il colore ma mi piacciono un sacco e per finire abbiamo Kurikara che anche lei mamma mia questo è bellissimo questo è proprio da fantasy un mixato alla cultura giapponese cinese tutto quello che volete io sono ignorante purtroppo però molto molto bello Kurikara tanta roba speriamo di trovarli così anche da noi invece di magari un boxettino un piccolo delle magnifiche esperte versione 2 andiamo a vedere le carte appunto sia le 12 speciali che sono Access Code Chaos Ruler che secondo me poi tornerà con la questione dei caos sincro però vabbè Azeus la Underworld Goddess Dark Honest poi Anti-Human Intelligence Mipsaia Lord of the Evening Prison la Guardian Chimera e Land Punisher e la Kurikara e se non finiscono più World Seed Dragon Zelantis per concludere Three Crown Armor Peror Beagram che è tanta tanta roba sia per Traptrix che per le carte di tipo insetto poi andiamo a vedere ovviamente queste sono le 12 carte andiamo a vedere le 6 nuove quindi abbiamo il Dark Magician l'Armed Neos Last Soul Synchron Last Hope Numbers Low Dice Rebellion Exist Dragon e il Rocket Coder che ovviamente l'avevamo già viste qui chiudo un attimino ragazzi così la roba l'avevamo già viste però andiamo a rivederle Dark Magician The Magical Night Dragons Magonello più mostri di rosetto superiore di tipo Drago oppure Guerriero se i nostri mostri attaccano i mostri in posizione di difesa infliggiamo dando perforanza all'avversario una volta per turno quando un mostro distrugge un mostro all'avversario in battaglia possiamo infliggere all'avversario danni pari all'attacco originale del mostro distrutto se questa carta viene distrutta specializziamo un Mago Nero oppure un Gaia The Dragon Champion dalla mano deck o extra deck o cimitero quindi ovunque Armed Neos più per i draghi armati che per gli hero deve prima essere bugato tramite fusione se viene specializzato se scegliamo un dragon del cimitero distruggiamo tutti i mostri dell'avversario con un attacco uguale inferiore con un con un uguale o inferiore livello scusate non c'è tra niente l'attacco quando questa carta distrugge il mostro in battaglia possiamo guadagnare questo effetto durante la mind phase effetto rapido possiamo tributare questa carta per specialare un errore mentale fusione all'extra deck ignorando le condizioni di evocazione scusate quando questa carta viene distrutta in battaglia no quando rompe un mostro in battaglia chiedo venia quando lui viene distrutto in battaglia durante la mind phase no che distrutta no quando distrugge un mostro in battaglia quando questa carta distrugge un mostro in battaglia infatti dovete tributa scusate 2.0 chiedo venia umilmente venia quando sfascia in battaglia tributi evoli poi assol sincro durante la mind phase possiamo specialare questa carta dalla mano poi prendiamo 700 possiamo evocare solamente mostri sincro quando attiviamo questo effetto e finché questa carta è scoperta dalla zona mostri poi se un mostro drago sincro e uno più mostri drago sincro e controlliamo vengono tributati o imbanditi possiamo bandire questa carta al cimitero per targettare uno di quei mostri e lo specialiamo last hope number questa carta viene sempre trattata come una carta galaxy high paghiamo metà dei nostri life points per targettare due mostri nel cimitero per il resto di questo turno dopo che questa carta sia risolta possiamo specialare esclusivamente dall'extra deck soltanto una volta non contando ovviamente questo effetto poi evochiamo ovviamente i mostri targettati ma i loro effetti sono legati poi immediatamente dopo questo effetto si è risolto evochiamo l'exis un mostro numero utilizzando esclusivamente quei due mostri quindi evochiamo l'exis con questo e poi possiamo farci anche un'altra evocazione extra dal deck allora lui mi pare di tornare sempre dice rebellion dragon effetto pendolo durante la main phase possiamo specialare questa carta poi attacchiamo un mostro dark dal cimitero a questa carta come materiale poi due mostri pendolo livello 7 se evochiamo pendolo 7 possiamo evocare pendolo questa carta scoperta dall'extra deck non può essere utilizzata come materiale per un'evocazione exis nel turno in cui viene evocata possiamo staccare un materiale da questa carta per traghettare fino a due mostri dell'avversario con 3000 di attacco o inferiore e li spacchiamo ogni effetto è una volta per turno se questa carta la nostra zona mostri viene distrutta la piazziamo nella zona pendolo rocket coder e concludiamo le carte nuove se questa carta viene utilizzata per la vocazione link di un mostro borel viene trattato anche come un drago possiamo utilizzare ogni effetto una volta per turno se un mostro cybers viene utilizzata come materiale link per un cold talker possiamo utilizzare questa carta dalla mano come materiale se questa carta viene utilizzata come materiale link per un borel possiamo utilizzare anche un mostro dark nella nostra mano come materiale e ok qui abbiamo finito i mostri nuovi andiamo a vedere le reprint abbiamo full floor penguin la frightful patchwork dark lord isher e cerco un attimino di aprirli al volo abbiamo red raptor f drugster the fabled unicorn ok siamo andati fino a fabled cruz perché non c'è altro modo di andarla a vedere abbiamo shell abbiamo guanti abbiamo le raptor semmai mi limito magari a quelle più quelle più faie fabled cusciano e poi cruz quindi poi abbiamo the arrival in x der che è anche normal poi il pegasus bugin yamato junk converter cronomalia dai gusto spreeze queste sono tutte normal c'è il rocket racer che si può trovare esincro abbiamo lancio rapido danger roi del destino dash roi del destino apprentice lucia magician occhi di di mayus circolo mago nero pietra bianca degli antichi e supporti nordic ddd marsh kenkintel ghost trick dampier o dice vediamo scuoc robot gioca ok drivo vertum opera practice heroic champion heroic challenger scusate al 6 weather painter zombie untore marine marine neos dolphin neospaziale neos fusion gem knight revenant executor executor sales savior jomantec ricca glamour maestro maturale nero dovrebbe essere questi ancora norm perché so cercano anche le carte secret magari luster pendon dragon slayer furair il link galaxy wizard abisector labiscript i kishki poi xerziel i generator yatakarasu e timesy andiamo a vedere un attimino ok arrival alla fine il coso il set è tanta tanta roba però c'è anche tanta fuffa quindi è tanta roba soprattutto per le carte promo e tutto il resto quindi su quello non gli si può dire niente per me è veramente molto molto bello se magari uscisse anche qui ne sarei abbastanza contento ovviamente è fatto in questa maniera ovviamente è fatto in questa maniera qui ok jomadmatch final sigma blackwing full armor master e per concludere galaxy wizard che alla fine sono le carte che sono secret e normal purtroppo questo è l'unico modo per farvele vedere ma se mi mettevo a farle una per una un conto 40 carte un conto 80 diventa pesante comunque il succo il miglior succo ve l'ho fatto vedere quindi state tranquilli detto questo ragazzi fatemi sapere voi cosa da pensate noi come sempre ci vediamo in un prossimo video buone feste ingonzzatevi e un saluto a tutti e un abbraccio a tutti